E la bella gente benvenuti in questo nuovissimo video Oggi ragazzi faremo il video un giorno nella mia vita Mi raccomando se volete altri video del genere Arriviamo almeno a 20 mi piace Condividete il video con tutti i vostri amici E lasciate un like appunto E ovviamente commentate per farmi sapere che cosa ne pensate E mi raccomando ragazzi Seguitemi su Instagram e su Twitter che trovate qua sotto in descrizione Ciao Buongiorno bella gente e benvenuti nella mia morning routine Scusate se non nullo ma è abbastanza presto come avete visto nell'intro E quindi sì Oggi farete un giorno nella mia vita come da titolo Fatemi sapere se questa tipologia di video vi piace E se vorreste vedere dei altri video di questo genere sul canale E niente sono le 7 e mezza adesso Quindi ci siamo passati un po' di tempo Ci vediamo direttamente più tardi Allora guys è passato un po' di tempo dall'ultima clip Infatti sono le 10 e mezza credo Sì sono le 10 e 25 Non so se riuscite a vedere Probabilmente no Vabbè dettagli E niente mi devo vestire perché sono ancora in pigiama Come potete ben vedere Che cosa ho fatto queste ore? Praticamente nulla Sono stata sul divano e ho aspettato che mia mamma finisse di fare i servizi per la casa E ho steso una lavatrice e basta Quindi niente Adesso andrò a scegliere che cosa mettermi oggi Qualcosa di fresco perché fa un caldo bestiale e io sto già morendo così in pigiama Quindi figuriamoci poi vestita Accendo il computer e mi preparo a lavorare Tra virgolette Ok ho deciso che cosa mettermi Metterò la maglietta nuova che ho comprato da poco da Alcott E vedrete presto poi in un video haul E un pantaloncino di jeans che invece già avevo dall'anno scorso circa Quindi mi vesto e ci rivediamo dopo con una prossima clip Però non mi vesto come le persone normali perché ovviamente sappiamo che io sono un mago E quindi farò Vedete Si va troppo presto e adesso la stessa cosa accadrà per il pantaloncino Ok è stato più semplice del previsto vestirsi Anche voi lo sapete fare Beh direi che mi vado a togliere sto cartellino prima che ci scenda così perché Una volta mi è capitato lo giuro E questo farà parte di un prossimo video in cui vi racconterò le mie figure di merda Quindi lasciate un like se lo volete Ok allora devo togliermi questo E dopo quell'inquadratura abbastanza schifosa Perché mi devo arrangiare visto che sto usando la lampada da scrivania come treppiede Direi che posso finire di prepararmi Ok raga c'è stato un piccolo cambio di programma Perché avevo messo il pantaloncino di jeans Però non mi piaceva come mi stava Soprattutto perché avevo quelle frange E quindi ho deciso di mettere invece adesso un pantalone lungo di jeans appunto Che non è neanche troppo invernale Ecco si sta abbastanza bene Non fa troppo caldo Quindi adesso ve lo faccio vedere E secondo me sta molto meglio Fatemi sapere poi anche voi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate Ok allora non mi vedete più in faccia Però l'importante è che vedete il jeans che è questo qua E c'ha tipo le frange alla fine Quel mio calzino lì è bellissimo Cioè dovete dirlo Comunque ho acceso il computer alla fine Quindi adesso metto il lavoro Sono su youtube analytics per guardare un po' le statistiche degli ultimi due video che ho caricato Che trovate qua sotto in descrizione Comunque nelle handcard per vederli E niente ci rivediamo più tardi Ok allora Altro aggiornamento È mezzo giorno e venti Come potete vedere là in basso al computer Qui Ok si sta avviando fortnite nel frattempo perché ci voglio giocare Comunque questo è il canale E come vedete abbiamo 31 iscritti Quindi vuol dire che si è iscritto anche qualcun altro durante sta giornata E dai è così Stiamo andando davvero alla grande Tra l'altro il video tag ha 60 visualizzazioni Mentre il terreno del canale ne ha 106 E vi ringrazio davvero di cuore a tutti quanti ragazzi E vi ricordo che se volete potrete condividere appunto il mio canale con i vostri amici Per darmi una mano a crescere ancora di più E ve ne sarei davvero grata Ok intanto adesso vado a giocare un po' a fortnite Poi più tardi ovviamente vado a mangiare e tutto il resto Quindi ci rivediamo direttamente mi sa verso le 4 e mezzo 5 che poi devo uscire Cioè no raga spiegatemi un attimo quante cose sono cambiate in fortnite da quando non ci gioco Cioè veramente un botto Vabbè comunque scherzi a parte cose del genere Sto giocando a fortnite come potete vedere dietro da me E sono l'una e mezza quindi Sì tra poco andrò a mangiare Che poi più tardi usciamo Comunque ragazzi fatemi sapere qua sotto i commenti mi raccomando Se volete un altro video del genere Magari un altro giorno nella mia vita E se volete anche il video i miei fan controllano la mia vita Quello dove faccio i sondaggi su Instagram E appunto voi decidete che cosa devo fare O che cosa non devo fare E poi ragazzi mi raccomando condividete questo video con tutti i vostri amici Per aiutarmi a crescere qua su YouTube Pronti per uscire Fa caldo, fa caldissimo Grazie a tutti 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 E niente E adesso sono tornata a casa Mi sono fatto una doccia e uno shampoo E e Adesso andrò a mangiare Tra poco E poi me ne andrò a vedere dei video E successivamente a dormire Comunque ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Ci rivedremo probabilmente Alla prossima clip con l'outro E vi ricordo ovviamente La shp!! Se vi è piaciuto questo video e di rispondere al sondaggio che trovate qua in alto a destra e niente, bella